ciao ragazzi e bentornati a una nuova video recensione di robots kingdom il pezzo che ci troviamo oggi di fronte che andiamo a recensire è un pezzo unico un modello unico che ha fatto la storia del giocattolo siamo di fronte infatti al gig robot d'acciaio della takara del 1976 takara realizzò questo prodotto commissionò a gonagai la realizzazione della serie animata di gig proprio per promuovere e per trainare la vendita di questo prodotto successivamente negli anni 80 l'amego che era una vita che produceva giocattoli in america ha commissionato a takara chiedendo i diritti di produrre con gli stampi del gig dei robot che erano differenti da questo modello soltanto per la colorazione e per la forma della testa che non era uguale a quella di gig ma che si rifaceva moltissimo ai personaggi di star wars di guerre stellari che era un altro prodotto che all'epoca andava per la maggiore che era molto apprezzato anche dai dai bambini così nacquero i micronauti micronauti che erano per l'appunto dei robot in tutto e per tutto identici al gig nelle forme del corpo con una testa diversa che per l'appunto assomigliava tantissimo a quella dei personaggi di star wars e con colorazioni diverse ve ne erano due modelli uno bianco e uno nero e furono venduti in tutto il mondo anche in italia in italia ulteriormente la gig che era la casa produttrice distributrice di questi prodotti commissionò altri due modelli e realizzando quindi altri due robot con colorazioni ulteriormente diverse sempre in ditta unita ma questa volta con teste diverse che però erano identici in tutto e per tutto sia per la forma del corpo che per i colori che per diciamo gli accessori erano del tutto identici ai precedenti micronauti e quindi in italia abbiamo l'esclusiva di due ulteriori modelli di micronauti e questo diciamo è un punto di vanto per noi italiani questo modello è avvolto da un alone di mistero perché molti sostengono che in italia questo modello di gig con le fattezze e la colorazione di gig non sia mai stato distribuito e che quindi i bambini dell'epoca si ritrovassero a doversi accondentare dei micronauti e quindi di immaginare di avere un gig tra le mani ma con la testa di dei personaggi di guerre stellari c'è però chi sostiene tra cui una mia cugina di aver avuto il gig robot d'acciaio magnetico della takara tra le altre cose io vedo che la copia in mio possesso la confezione a riporta le scritte gig robot in italiano da tutte le parti e soprattutto nella parte posteriore sia le didascalie alle immagini sia diciamo le scritte di avvertenza sulla pericolosità di alcune parti del prodotto sono scritte in italiano quindi questo mi lascia pensare che una qualche edizione italiana in passato ci sia stata e che infatti questa ristampa sia riproduca fedelmente il giocattolo e la versione italiana della confezione ora scrivetemi voi nei vostri commenti se avete qualche notizia certa su questo prodotto se è stato più o meno distribuito in italia e adesso andiamo a scoprire cosa c'è all'interno di questa confezione andiamo ad aprire subito un versione piccolina e all'interno vi è questo blister di plastica un po ingiallito forse per simulare appunto l'omaggio al vintage all'interno di questo blister mi è saltato fuori un missilino che poi andremo a vedere dove andrà collocato ci sono dei pugni sostitutivi e altri due missili in di riserva diciamo un foglietto che andiamo ad aprire che riporta una splendida immagine illustrazione di uno spaccato di gig con i circuiti interni e credo dei disegni originali del manga di con agai è una immagine per l'appunto credo promozionale del manifesto della pubblicità del prodotto con una serie di diciamo piccole immagini che riproducono per l'appunto la le istruzioni del robot tutto questo riprodotto fedelmente in chiave vintage quindi come appariva negli anni 70 ed ecco il nostro modello all'interno del suo blister c'è una plastica per coprire il modello tiriamo fuori il pezzo principale è un po difficile da tirar via ed eccolo qui il nostro jig considerate che questo è un giocattolo la riproduzione di un giocattolo degli anni 70 quindi capite bene che per quell'epoca questo dovrà essere il santo graal dei giocattoli per i bambini dell'epoca perché intanto siamo di fronte a un modello veramente ben realizzato pesante solido non non ha segni di cedimento magari il peso di molte volte il peso del di un pezzo tende a portare giù tutta la gamba per esempio invece qui siamo di fronte a un bellissimo modello di jig che per l'epoca aveva una una qualità di dettaglio unica anzitutto la possibilità di staccare attaccare i pezzi con attraverso i giunti magnetici vedete che si staccavano in questo modo e riproducevano fedelmente quello che era il le scene viste nel nell'anime chiaramente non tutti i pezzi è possibile staccarli però diciamo che se un bambino dell'epoca si trovava in mano un giocattolo del genere il divertimento era assicurato la rievocazione del cartone animato di jig era fedelmente rappresentata e quindi chi si ritrovava questo modellino tra le mani doveva sicuramente ritenersi più che fortunato vedete come sono forti anche i giunti magnetici da attrarsi da soli fanno anche dei bei rumori di attacco ed ecco qui il nostro jig quindi per i bambini dell'epoca se è vero che in italia questo prodotto non è stato diciamo distribuito con queste fattezze per i bambini dell'epoca era davvero un peccato avere soltanto un robot col corpo di jig ma con una testa diversa una colorazione diversa questo è il robot e andiamo a vedere cos'altro contiene la confezione anzitutto i missili e super perforanti scusate e due che possono essere anche attaccati al corpo del robot si attraverso questo supporto vedete qui questa è una diciamo una cosa esclusiva di questo modello perché in effetti questa cosa non è mai stata diciamo vista né nella serie animata né in altri modelli di jig che era praticamente che attraverso questo supporto era possibile attaccare dietro le spalle di questo modello come una specie di backpack questi reattori a raggio che potevano simulare il volo di jig oltre a questo questa questa cosa è stata ripresa da molte case che hanno realizzato modelli di jig moderni proprio per omaggiare il giocattolo della della Takara oltre a questo attraverso questi pezzi sempre con gli agganci sferici con gli agganci magnetici è possibile attaccare i missili perforanti alle braccia di jig vedete qui stacchiamo il braccio e attacchiamo uno e due ed ecco qui il nostro jig robot con i suoi missili perforanti che sono l'arma diciamo più rappresentativa del modello e del robot inoltre è possibile inserire questo piccolo missile sul foro nell'addome di jig che è sparante come vedete e questo a simulare il raggio prototonico di jig che spesso era l'arma risolutiva di jig quindi qui abbiamo un modello che per l'epoca per l'epoca in cui è uscito era assolutamente fedele sia dal punto di vista estetico che dei dettagli a quello che si vedeva nel cartone animato capite bene ripeto che un bambino dell'epoca trovarsi tra le mani questo modello era il giocattolo della vita era il santo graal per un bambino dell'epoca e forse anche per un bambino di oggi che amasse questo tipo di questo tipo di prodotti sicuramente è un giocattolo che è ancora del tutto attuale perché è molto ben realizzato con materiali solidi e con meccanismi e soluzioni assolutamente moderne e solide ma non solo abbiamo questo sia questo modello di jig che i micronauti dell'epoca erano corredati come set aggiuntivo anche di questo robot che è il modulo Antares che abbiamo visto anche nella serie animata di jig che era il cavallo che verso la fine della serie veniva realizzato per supportare appunto jig robot riprodotto in tutta la sua bellezza questo cavallo è molto fedele a quello visto nell'anime o in altri modelli di jig ed era possibile staccargli la testa e inserire staccando le gambe del jig proprio come si vedeva nella serie animata staccare il corpo di jig e attaccarlo sul sul corpo del cavallo per ricreare il il centauro inoltre nella confezione del cavallo troviamo anche un set di mani con un foro come vedete diverso da quello di quelle in dotazione nel modello di jig che vengono applicate è una lancia che può essere inserita qui è applicata a jig ed ecco qui il nostro centauro jig robot acciaio con il suo modulo Antares questa particolarità del cavallo era anche riprodotta in tutti i modelli dei micronauti sempre con i colori relativi al personaggio cui andavano accostati che dire un modello veramente unico sia per l'eco poca che per ora una piccola nota la diciamo subito che i missili perforanti nella prima edizione del jig avevano una punta molto più affilata puntita e anche il missile centrale aveva una punta più diciamo appuntita ma poi è stata smussata arrotondata per motivi di sicurezza che erano dei giocattoli e quindi potevano anche arrecare danni e fare male ai bambini eccolo qui ve lo faccio girare in modo tale da poterlo apprezzare da diverse prospettive ed ecco il nostro jig bellissimo devo dire che fa la sua figura tra l'altro Takara oltre a questi due pezzi aveva prodotto anche all'epoca adesso se si trovano online hanno raggiunto prezzi davvero esorbitanti aveva prodotto un modellino bellissimo di big shooter tutto in metallo veramente unico che andava ad abbinarsi a questo modello e c'erano anche degli altri modelli di jig sempre dotati di agganci magnetici che riportavano e riproducevano i componenti subacquei piuttosto che quelli aerei o quelli terrestri di jig quindi diciamo che sin da quell'epoca il giocattolo di jig è stato sempre completo di tutti gli accessori di tutte le possibilità di composizione questo è il prodotto quindi sicuramente è un giocattolo che io sono stato veramente fortunato a trovarlo qualche anno fa online a prezzi veramente irrisori però credo che si trovi diciamo a prezzi abbastanza elevati adesso questa è chiaramente una ristampa quindi non è l'originale quindi sicuramente i prezzi sono più accessibili di una ristampa rispetto a quelli di un prodotto originale non so quanto si trova adesso però sicuramente saranno prezzi più elevati sicuramente piuttosto elevati tra l'altro il cavallo il modulo andare se io l'ho trovato senza confezione però dotato di tutti gli accessori non mancava davvero nulla ci sono anche delle ruote con dei rostri che è possibile eventualmente montarli al costo delle zampe per poter simulare una sorta di mezzo cingolato di mezzo terrestre e niente questo è il robot sicuramente è un prodotto che se si trova consiglio a tutti di acquistarlo perché è una rievocazione una riproduzione molto fedele di quello che era un giocattolo d'epoca che ripeto è a tutt'oggi un giocattolo molto attuale sicuramente in una vetrina fa la sua figura insieme ad altri modelli più recenti di jig e che a mio avviso si rifanno tutti a questo primo concept di modello con gli agganci magnetici andiamo a pesare questo modello completo di tutte le sue parti con anche i missili perforanti addosso vediamo che pesa 203 grammi quindi un peso assolutamente assolutamente rilevante e importante per un modello che è dotato comunque anche di metallo vediamo che invece il modulo antares panzeroid pesa 119 grammi quindi tutti insieme andranno a pesare 322 grammi quindi assolutamente un giocattolo dotato di un peso consistente perché per l'appunto i materiali di realizzazione soprattutto del robot sono veramente ottimi materiali ci sono parti metalliche come ad esempio le gambe e le sfere magnetiche sono in metallo anche parte dell'addome è in metallo quindi sicuramente il materiale di cui è costituito fa la sua parte vi lascio con le ultime immagini del nostro gig takara insieme al suo fidato modulo antares panzeroid come lo si vuole chiamare e considerate il fatto di acquistarlo se siete gli amanti dei giocattoli vintage se siete amanti del soggetto di gig robot se siete dei collezionisti sicuramente un pezzo che in collezione va inserito se si trova a prezzi approcciabili perché questa è chiaramente una ristamba come è successo a me in qualche fiera online ed è possibile acquistarlo a prezzi diciamo accessibili quindi allora vale la pena assolutamente averlo chiaro che un pezzo originale dell'epoca raggiungerà prezzi assolutamente elevati però se lo si trova se si trova una ristamba come questa in buone condizioni e a prezzi accessibili sicuramente va acquistato che dire vi lascio a queste immagini e vi auguro una buona fine di 2020 buttiamoci alle spalle un po tutto quello che ha rappresentato quest'anno tutte le privazioni e le paure che ha portato con sé e guardiamo avanti a un anno nuovo sicuramente più promettente più florido e niente vi auguro una buona fine d'anno e un buon inizio di anno nuovo i migliori auguri per tutto io vi ringrazio lasciatemi un like se vi è piaciuta la recensione iscrivetevi al mio canale e lasciatemi anche qualche commento se magari avete notizie più sicure riguardanti questo modello soprattutto sul fatto che sia stato distribuito in qui da noi in italia così con le fattezze di gig o se da noi sono arrivati soltanto i micronauti quindi chi ha avuto la fortuna di avere questo pezzo anche nell'infanzia può lasciarmi un messaggio e raccontarmi la sua storia legata a questo modello vi ringrazio ancora vi auguro buon anno e vi saluto grazie ancora per l'attenzione e a presto c'è un gran castello nella comprea di camelo